Aumentano i ricoveri negli ospedali della provincia, sono 70 ricoverati in malattie infettive e 7 in terapia intensiva per un totale di 558 pazienti positivi in tutta la provincia, 173 a Caltanissetta. Sono 1621 i positivi in quarantena domiciliare e 15 ricoverati in malattie infettive. Sono 131 i pazienti guariti in Sicilia. Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione però dei nuovi casi, meno il 16% rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica 36,4% e in terapia intensiva il 20,2% occupati da pazienti Covid-19. E quanto emerge dal moritoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'analisi dell'andamento dell'epidemia. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale del 73,8% in media 79,6% a cui aggiungono un ulteriore 5,3% solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con la stessa dose del 63,5%.